Stamattina vigili del fuoco di Grotta Minarda ancora al lavoro in contrada Acqua di Tauro ad Ariano Irpino per recuperare l'auto che stanotte è finita in un dirupo. A bordo tre malviventi, due sono riusciti a fuggire e un altro rimasto incastrato tra le lamiere è stato arrestato. Avevano messo a segno un colpo in una villetta nei pressi del carcere di Ariano Irpino, poi si sono dileguati ma subito sono stati intercettati da una volante della polizia. E' scattato così un rocambolesco inseguimento a cui hanno partecipato altre pattuglie del locale commissariato. Alla fine l'auto sulla quale viaggiavano i tre, a quanto pare provenienti dal campo Rom di Maddaloni, sono finiti in un precipizio in contrada Acqua di Tauro, in una stradina di campagna senza uscita. Difficili anche le operazioni di recupero del mezzo iniziate stamattina a causa del punto impervio in cui l'auto è finita. Due sono riusciti a fuggire dileguandosi nelle campagne circostanti, armati perché hanno rubato un fucile. Ad avere la peggio il giovane ha la guida, ventenne di origini albanesi. E' rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto e dopo essere stato imbracato, è stato estratto dall'abitacolo ed affidato ai sanitari del 118 intervenuti. Poi il trasporto all'ospedale di Ariano. In contrada Acqua di Tauro stanotte quindi polizia, carabinieri e vigili del fuoco del distaccamento di grotta, sul posto per gli opportuni rilievi anche la scientifica del commissariato di polizia arianese. Intanto sul territorio continuano attivamente le ricerche dei due malviventi che sono riusciti a fuggire. Grazie per la visione!